No. Sì, scudo! Per terra, aspetta, aspetta. Arrivano, ho sentito i passi dietro. T'ho coperto, bravo, vai. Interrogazione. Interrogazione! Interrogazione. No! Scusa, Anto, scusa. No, no, bravissimo, bravo, tu sei. Hai visto che uccide? Sì. Mi sono fermato per fare l'applauso, Anto. Ci sei due, ne fatti. Metti la crema, come ti ho detto prima. Ok. Eh, guarda, andata per favore. Sbagliato. Sì, sì, no. Guarda avanti. Tranquillo, tranquillo. Mi metto qua dietro per sicurezza. Non so. Allora. Hanno lasciato il gioco. Basta. Qua. L'ho preso, l'ho preso. L'ho preso da tanto. Ho finito i conti. Tanto, mi stai sentendo di brutto questo drone. Non mi sono mai divertito così tanto. Mi sto facendo impazzire. Dai! Dov'è? Qua. Aiuto. Mi sono sbagliato a inclinarmi, purtroppo. Ti sei divertito? Eh, vabbè, voglio salvare il tipo. Vedi, vedi. Invece di girare. Eh, questa è una cosa che devi subito cercare. Guardala, guardala. Guardala. È bellissimo. È venuta l'ansia. Nice. Ha, 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 ha. Non esco a muovermi bene. Aspetta. Ma posso sparare la cosa di maestro? Sì, la nulli per 10 secondi, mi sembra. Chiamata. Ancora. Sto facendo impazzire, intò. No, il sasino è preso. Non ho spottato. Sto coprendo un'eventuale flank da dietro. Non sto prendendo la munizione. Che vuol dire chiamata? Ah, che stai chiamando? Maestro qua. È un labbo, maestro, non ho. È scarso, è scarso, è scarso. Tu stai lì, coperto. Fuoco inchiociato, fuoco inchiociato. L'hai fatto ridere che si è cazzo. No, no, l'ho fatto apposta. Vai giù, vai giù. Ecco. Guarda, guarda, guarda. No. Peccato, Giuseppe, bel lavoro comunque. Bella la, non to'. Eh, Anto. No, scusa, pensavo, scusa, pensavo. Vai, spacca, spacca. Ho usato l'altro porto, bro. Bene. Un po' di spianchini. No, ho sbagliato, tasto. Vai in sight, vai in sight di aiutarlo. Oh. Mia, mia. Inclinati a destra. A sinistra, inclinati a sinistra. Verso la, a destra, guarda a destra. Ok. L'altro c'è un drone che trovo controllo. No. No, non ce l'ho, Anto. Sto andando nel panico, non devi queste cose. Ok. Non ci sono drone, ok. Vai verso la porta, piano piano. Il credito è sempre a sinistra, Giuseppe. Vai, vai. Alza la mira. Perfetto. Guarda a destra. Oh, c'è... No, non ho scappato, non doveri scappato. Mira. Bravo! Reggi qui. Hai visto? Non devi scappare. Quando sei in quel momento? Nasconditi, non vanno scappare. Sto coglione, ti pusha. Non deve pusharti, coglione. Dove sei, Giuseppe? Sto guardando la finestra. Bucco? No, 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 no. No, no, no. Per una cosa, Giuseppe. Lancia la smoke qui dentro. Picca un po' adesso. Eh? Eh? Allora, però... Comunque non ero a trovare sul fumo. Perché l'ho buttata male. Lancia la smoke di nuovo, cara. Eh, ho finito, ho finito. Che devo fare, Antonio? Aiutami. Sto aspettando che entri. Bravo. Eh, ma mi affaccio? No. Anguro. Reloading. Colori. Ho tolto l'arrafo, non ho tolto. Che culo di merda che ho avuto. Oh. Spara, spara. Anno, che cazzo mi ha sparato? Il tuo compagno. Ha sparato, ha sbagliato a mirare. No, no, non l'ho fatto. Ho fatto apposta, ha smirato. Ho avuto un colpo. Che cosa ho speso? Non ti ho panico. Giù, giù. Giù, giù. Giù, giù, giù. No. No, che timer. No. È colpito. Di carica? Poco. Sto lasciando, sto lasciando. Quello è rimasto. Basta, basta, basta. Eh... No? No. Ok. Fai fermo, fai fermo. Qualmuro adesso è volvengabile. Aspetta. Guarda a destra. Bravo. Giuseppe. Tranquillo. È spacciato. Cììììì. Ma che bella questa. Chi ha rotto? Chi ha rotto la finestra a noi o loro? Loro. Bravo, Giuseppe. è bello come sarà il drone intanto ci ha messo a riparo non c'è niente sono andato un po solo non sto vedendo più sto cercando la bomba cazzo questo sopra è in camera se in camera matrimoniale dove ho ucciso tu giuseppe ma spaventare ma grandanto mi ha dato l'assist che l'avevo colpito bravo mi hai distratto aspetta 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 no non ho preso qua qua quanto finito la munizione non posso fare niente io ok posso entrare adesso no non tolva sono scarsi sono scarsi attento giuseppe chi è che sta correndo nessuno dei nostri oh no cucino stai 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 sb attenzione strade stai te pd questo diamante un tò Grazie Giuseppe, grazie, grazie Giuseppe, grazie No grazie Giuseppe, veramente grazie, avevo finito i colpi dell'arma Giuseppe, infatti ho dovuto usare la pistoletta per ucciderlo